Ciao sono la dottoressa, Giulia De Angelis, collaboratrice del dottor Max, io mi occupo di leggerti i vari foglietti illustrativi, dei profilattici, o preservativi, dei quali ne consiglio assolutamente l'uso, a scopo preventivo di gravidanze non desiderate e molte patologie fastidiose e pericolose. In questo video esaminiamo il profilattico preservativo. 12 preservativi durex super sottili regular, 56 mm. I durex super sottili regular sono preservativi sottili che garantiscono un'elevata sensibilità durante il rapporto sessuale. Questi profilattici sono inoltre dotati di forma eision che garantisce un maggiore comfort nella vestibilità. Spero di esserti stata utile, metti un mi piace, a questo video e iscriviti al canale, per usufruire di tutti i servizi informativi dedicati alla tua salute. Grazie e buon proseguimento dalla dottoressa, Giulia De Angelis. Ci vediamo al prossimo profilattico esaminato. Grazie a tutti.